Allora, vedevo l'interno, vedevo l'interno, vedevo l'interno, vedevo l'interno, vedevo l'interno. Inoltre, come stanno, abbiamo un problema molto di lavoro, ma sono una famiglia, non ci siamo altri figli, non ci siamo, non ci siamo in caso, non possiamo permettere di stare. Citago! 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 Grazie a tutti. Ai quali abbiamo assistito stamattina che sono situazioni senza precedenti per questa comunità ternana. Il prefetto oltre alle scuse che pensiamo erano doverose ha detto che approfondirà di chi sono le responsabilità e farà pagare i responsabili di questi atti successi stamattina. Da oggi in poi insieme ai parlamentari, insieme alle istituzioni regionali e al prefetto stesso coordineremo tutte le iniziative che faremo nei prossimi giorni perché saranno sempre di più e saranno sempre di visibilità maggiore. E quindi su queste siccome stiamo difendendo il lavoro e la fabbrica di questa città speriamo che ci sia attenzione e non si verifichi quello che è successo stamattina.